Hanno provato a farlo ridere con i giochini sulla culla. Hanno provato a farlo ridere col solletico. Una volta gli hanno anche fatto vedere Brunetta che gioca a basket, ma lui niente. Su Sky torna all'ormai consueto appuntamento settimanale con la solidarietà. Aprite i vostri cuori e preparatevi a... Il Fabio Capelloton! La maratona di 72 ore per cercare di far ridere Fabio Capello almeno una volta nella vita. Una serata per regalare un sorriso a Fabio Capello, l'allenatore che già quando stava in Italia non rideva mai. Figuratevi adesso che è in Inghilterra, che lì piove sempre. 450 comici da tutto il mondo si alterneranno sul palcoscenico dello stadio di Wembley. Roberto Benigni, Fiorello, Mr. Bean, David Letterman, Tom e Jerry, Bip Bip con Willy il Coyote e Ruttiglione con Labinetti. Il Fabio Capelloton! E anche tu da casa aiuta Fabio Capello. Mandagli un sms con la tua busta paga per vedere se almeno così ride. Il Fabio Capelloton è un'esclusiva di Sky. Molto bene Fabio Capello!